Antonio Manzini torna da Osta dopo l'agosto 2005 che segnò l'ultima volta, allora bastò tra virgolette la saletta della biblioteca, questa sera ci vuole un teatro, nel mentre Rocco è approdato alla televisione, è proprio il piccolo schermo che santifica in Italia, un personaggio quindi? Santifica? Boh, non lo so, comunque diciamo che lo rende più popolare sicuramente, ci sono più spettatori che lettori, questo non è una novità insomma. E tu hai sempre ammesso di essere lento, sia nella genesi di un personaggio, sia poi nello sviluppo di tutta una serie di cose che lo riguardano, per quanto riguarda Rocco Schiavone hai pensato che dovesse avere un'identità televisiva fin da pista nera o è successo dopo? No, è successo dopo, io anzi fino al terzo libro non ci pensavo proprio, anzi temevo la cosa devo dire, poi queste cose vanno più veloci di quanto uno si aspetti. C'è stata una scintilla o qualche episodio? C'è stata una persona in Rai, una persona che lavora in Rai, nella fiction che si è fissata con questi romanzi e ha lavorato e alla fine mi ha chiamato e ha detto senti noi saremo pronti per, tu che vuoi fare? E tu che hai voluto fare? Sono andato dietro di Ivan Carlete ovviamente. Senti, parliamo ora delle plemi che in qualche modo hanno accompagnato la messa in onda, anche se poi in realtà il dato di fatto è che Rocco fa le cose che alcuni hanno criticato fin dal primo libro, quindi da quattro anni fa, quindi la constatazione per quanto amara è che la classe politica italiana non legge. Ma un libro non ha mai fatto paura a nessuno tranne che insomma al terzo Reich che li bruciava, i libri non fanno molta paura, fa più paura alla televisione perché ovviamente lo sappiamo più gente la guarda. Ma io di questo non vorrei parlarne, io scrivo libri, ognuno fa il mestiere suo. E però parliamo di un'altra cosa legata al successo televisivo di Rocco che ormai è pluricampione del mercoledì sera. E quanto questo nello sviluppo della prossima avventura di carta di Rocco potrebbe o rischia di condizionarti? È un problema, un problema che dovrò affrontare. Io spero di tornare a scrivere con la stessa testa che avevo prima, insomma. Non vorrei pensarci, non vorrei pensare a tutto quello che è successo in questi giorni, non riguarda l'ambito letterario del personaggio, sono dei libri, hanno altri ritmi, hanno altre esistenze. Senti, vediamo un aspetto finale di questa intervista che probabilmente è quello più delicato per i tanti fan di Rocco. Allora, una punizione non è in eterno e per quanto Rocco non sia un ragazzo facile, diciamo, c'è comunque chi ha fatto molto peggio di lui. E questo confino valdostano però è destinato a essere eterno? Ma lui deve pregare Dio che sia eterno perché sta imparando piano piano a capire che Aosta è la valle, un posto meraviglioso. Sono cinque anni che glielo dico. Forse ci riuscirò a fargli capire un posto meraviglioso, ma se ci sta piano piano ci sta riuscendo. E quindi rimpiangerà nel caso un paese bello come Aosta e un paese bello come la valle. Se dovesse farmi nervosire io ho sempre pronto qualcosa di terribile per Rocco Schiavone. Se non imparerà a amare la valle da Aosta, lì finisce. Eh, ragazzi, il contrapasso c'è per tutti. La difficoltà di sceneggiare un personaggio complicato come Rocco Schiavone? È stata un'impresa, ma un'impresa che ho diviso con Antonio, che fortunatamente potrebbe essere un grande scrittore e anche un grande sceneggiatore. Abbiamo cercato insieme di rispettare il personaggio che era sul libro e abbiamo cercato di perdere il meno possibile rispetto a quello che lui era, di tutte le sue caratteristiche, di tutti i suoi stati d'animo, anche magari quelli più complicati che erano quelli magari più affidati alla penna e meno alle immagini. Mi sembra che ci siamo riusciti e questo ha anche aiutato sicuramente da tutta la produzione che ci ha molto assistito e ha rispettato il lavoro e sicuramente anche la parte di Marco Giallini che ha dato un'ottima interpretazione al personaggio che Antonio aveva creato e che insieme abbiamo portato sul piccolo schermo. E qua a Ostra è la sua valle un assist per chi deve scrivere una sceneggiatura? Beh, sicuramente queste atmosfere diverse, specialmente in televisione, dalle fiction che vediamo, perché sono piene di luce, sono evidentemente a Roma o a Napoli, insomma molto sud, si vede nelle fiction nostrane. Questa sembra più una fiction di ambientazione nordica, forse scandinava in qualche modo. Sicuramente interessante il lavoro che è stato fatto a livello di fotografia, a livello di luce, a livello di colori. È uno sforzo importante per dare un'identità forte alla serie e credo che il risultato si è visto e forse già da pochi fotogrammi si è in grado di dire questo, è Rocco Schiavone, insomma, e questo è bello. E anche, adesso io la città non la conosco molto da quel poco che ho visto, anche la città da una grossa mano alla malinconia del personaggio. Ecco, perfetto.